Rialzare la testa dopo la scoppola di Picerno era un obbligo per restare in scena la prima della classe. Detto fatto, il Cerignola non tradisce al Monterisi, batte 2-0 il Francavilla in Sienni e conserva l'imbattibilità casalinga. Nel campionato di Serie D il margine della vetta però è sempre di 5 punti. Dino Bitetto orfano degli squalificati Esposito e Foggia schiera i suoi con un 4-3-3. La Tanzio fa il riferimento principale in attacco Marotta e lo Iodice agiscono ai suoi fianchi. Di Cecco torna invece in mediana, Polidori fa il centrale difensivo. Non è un avvio brillantissimo quello dei padroni di casa anche perché quella Lucana è squadra organizzata e ben messa in campo dall'Azic da una vita alla guida del Francavilla in Sienni. Il primo quarto di partita non riserva particolari emozioni. Gli ospiti se la giocano a viso aperto e non disdegnano la possibilità di provarci in proiezione offensiva. Il Cerignola invece sale di tono in chiusura di frazione. Lo Iodice per Marotta, Marotta per l'Attanzio che da distanza ravvicinata non riesce ad incidere sul punteggio. Il gol del vantaggio arriva comunque prima dell'intervallo. Marotta va in percussione carannante con un destro dal limite. Insacca alle spalle del portiere ospite con la complicità di una diaviazione. Ofantini dunque avanti a metà gara. Prova a reagire al rientro dagli spogliatoi Francavilla in Sienni pericoloso con un tiro di Dauria disinnescatto abilmente da Bagnale. Nell'ultimo quarto d'ora poi torna in cattedra il Cerignola che prova a sfruttare le ripartenze. Lo Iodice sfiora il gol di pregiovole fattura. Longo su punizione impegna Alvigini. Il risultato resta così in bilico sino a sei minuti dal novantesimo quando il mio entrato Vito Francesco su punizione. Pennella per la testa di Lattanzio che fissa il punteggio sul 2-0 e mette a segno il sesto centro personale. Finisce 2-0 per il Cerignola che chiude il girone d'andata a meno 5 dalla capolista Picerno ma ha a disposizione altre 17 partite per tentare l'assalto al calcio professionistico.